Parliamo di principio di cassa per le imprese minori, facciamo un quadro normativo prima di passare la parola a Delena che dopo vi farà vedere l'operatività sul programma. Allora abbiamo che la legge di bilancio 2017 che è diventata la legge numero 232 pubblicata in gazzetta ufficiale il 21 dicembre 2016 all'articolo 1 commi da 17 a 23 ha introdotto il principio di cassa per i soggetti in contabilità semplificata. Vale a dire imprese individuali e società di persone e in particolare l'articolo 1 come dal 17 al 23 come vedremo fra poco sono andati a toccare due articoli l'articolo 66 del TUIR e l'articolo 18 del DPR 600 del 73 quello sull'accertamento. Andando un attimino a analizzare i vari commi quindi quelli dal 17 al 23 abbiamo che Il comma 17 fa riferimento alle modifiche che sono intervenute nell'articolo 66 del TUIR in particolare è stato toccato il comma 3 dell'articolo 66 dove sono stati eliminati i riferimenti ai commi 1 e 2 dell'articolo 109 L'articolo 109 come 1 e 2 faceva riferimento al criterio di competenza per i ricavi ai costi quindi i rinvii agli articoli ai commi 1 e 2 del 109 sono stati eliminati all'interno del comma 3 dell'articolo 66 Inoltre sempre all'interno del comma 3 dell'articolo 66 sono stati eliminati gli ultimi due periodi che facevano riferimento al principio di cassa per determinate spese Cioè già all'interno dell'articolo 66 del TUIR prima delle modifiche che disciplinava appunto il principio di competenza per le imprese minori Al suo interno c'era una sorta di deroga cioè per determinate tipologie di spese si poteva adottare il criterio di cassa ed erano spese di importo sotto i 1000 euro relative a contratti a corrispettivi periodici Come potevano essere le utenze del telefono, del gas, delle energie elettriche eccetera eccetera Quindi era sufficiente registrare il documento probatorio se io registravo il documento probatorio di una spesa sotto i 1000 euro Anche se ero con il criterio di competenza era sotto i 1000 euro ma la potevo dedurre tutta nell'anno senza andare a fare risconti o quant'altro nel caso Questo non ha più senso perché appunto abbiamo il principio di cassa allargato con le nuove disposizioni e quindi hanno eliminato questi ultimi due periodi dall'articolo 66,3 Il comma 18 dell'articolo 1 della legge 232 invece fa riferimento al trattamento che dovranno riservare questi soggetti alle rimanenze Cioè come dovranno comportarsi con le rimanenze dal 2017 in avanti E queste novità, queste modifiche hanno generato anche alcuni dubbi Infatti nei giorni scorsi ci sono stati alcuni articoli di giornale che hanno sottolineato l'effetto negativo di queste rimanenze già dall'esercizio 2017 Per quanto riguarda le perdite che potrebbero generare nei confronti di questi soggetti Dopo diremo meglio anche, sottolineeremo meglio anche questo aspetto Il comma 19 invece fa riferimento al comportamento sostanzialmente da adottare in caso di passaggio di regime Da semplificata, ordinario e viceversa E sostanzialmente mi dice che tutto ciò che ha rilevato, cioè i ricavi, i compensi e i costi Che hanno rilevato in un determinato esercizio dove si adottano determinate regole Che può essere il principio di cassa o il principio di competenza E quindi rilevano nella determinazione del reddito imponibile in base al regime che io adotto in quel momento Non assumono poi rilevanza nella determinazione del reddito degli esercizi successivi Anche qui dopo magari diremo meglio con un esempio I commi 20 e 21 invece fanno riferimento al trattamento dell'IRAP Qui la slide già ci aiuta Ci dice sostanzialmente, e questo viene ribadito anche nei commi 20 e 21 Che l'IRAP sarà determinata anche lei seguendo il principio di cassa Mi sto riferendo ovviamente ai soggetti che determinano l'IRAP secondo l'articolo 5 bis Quindi seguendo le regole del TUI Il comma 22 invece è quello che è andato a modificare l'altro articolo di cui vi dicevo prima E cioè l'articolo 18 del DPR 600 del 73 In particolare all'interno dell'articolo 18 sono stati introdotti tre nuovi registri Quindi queste imprese minore in contabilità semplificata per cassa Dovranno adottare uno di questi tre registri Per tenere la contabilità E la scelta che dovranno fare avrà poi influenza Sulla gestione contabile del contribuente barra cliente del commercialista stesso Il comma 23 infine prevede sostanzialmente che le disposizioni della legge di bilancio 2017 Decorrono dal primo gennaio 2017 E inoltre viene anche previsto che potrebbe essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge Pubblicata quindi in gazzetta il 21 dicembre Potrebbe arrivare un decreto entro il 20 di gennaio Che fornirà ulteriori disposizioni attuative di questi commi Si spera che esca anche una circolare da parte del ministero che chiarisca alcuni aspetti che sono ancora aperti Ok Allora Venendo al nostro principio di cassa Dicevamo appunto che dal 2017 sarà il regime naturale obbligatorio Volendo chi vuole continuare a lavorare per competenza dovrà adottare la contabilità ordinaria Quindi bisognerà esercitare un'opzione vincolante per tre anni Anche questa L'opzione però verrà esercitata nella dichiarazione IVA del prossimo anno Quindi la faremo ad aprile 2018 quando faremo l'IVA per l'anno 2017 Ma chi vuole continuare a lavorare per competenza Già dal primo gennaio 2017 dovrà adottare il cosiddetto comportamento concludente Quindi al primo gennaio dovrò aprire una sorta di inventario di quelle che sono le mie poste attive e passive Lavorare con il libro giornale e i relativi partitari Cominciare a farmi darmi, non adesso, ma magari fra qualche settimana Gli estratti conti bancari per gestire anche gli incassi e pagamenti Quindi il comportamento concludente Chi invece continuerà a lavorare per cassa Quindi contabilità semplificata per cassa Dovrà verificare a fine 2016 se ha i requisiti per restare nel regime di cassa Quindi verificare il volume dei ricavi Bisogna fare anche distinzione fra chi svolge prestazioni di servizi e altre attività Perché chi svolge prestazioni di servizi può rimanere in contabilità semplificata Se ha un volume di ricavi non superiore ai 400.000 euro Chi invece ha ricavi per altre attività può mantenere la contabilità semplificata Se ha un volume di ricavi non superiore ai 700.000 euro Fare attenzione ai casi misti Casi misti posso avere due situazioni La prima situazione il cliente non mi annota in maniera distinta i ricavi per prestazioni di servizi Rispetto ai ricavi per le altre attività Quindi se non c'è l'annotazione separata Il volume di ricavi a cui fa riferimento è quello dei 700.000 euro Per cui se il volume complessivo dei ricavi servizi più altre attività è non superiore a 700.000 euro Posso rimanere in contabilità semplificata Se invece faccio l'annotazione distinta dei ricavi Quindi i ricavi per prestazioni di servizi li tengo distinti rispetto ai ricavi delle altre attività Perché magari lavoro con due sezionali IVA O perché magari per quel cliente ho attivato la contabilità separata In senso dell'articolo 36 del testo unico IVA Allora in quel caso bisogna fare qualche ragionamento in più Quindi bisogna prima vedere qual è l'attività prevalente Servizi o altre attività Verificare il relativo limite Secondo paletto bisogna comunque tenere in considerazione che il limite massimo è quello dei 700.000 Quindi facendo un esempio Se io ho ricavi per prestazioni di servizi pari a 380.000 e ricavi derivanti da altre attività pari a 300.000 L'attività principale è quella dei servizi 380.000 e sotto i 400.000 Gli vado a sommare i 300.000 delle altre attività fa 680.000 Sto sotto il limite di 700.000 posso tenere la contabilità semplificata Viceversa Stesso esempio ma i ricavi delle altre attività sono pari a 325.000 380.000 servizi è la mia attività prevalente Sotto i 400.000 ma se gli vado a sommare i ricavi derivanti dalle altre attività Il totale fa 705.000 Supero il limite dei 700.000 Non posso continuare a lavorare in semplificata Dall'esercizio successivo devo obbligatoriamente adottare la contabilità ordinaria Quanto detto poc'anzi lo trovate anche in una risoluzione dell'agenzia delle entrate Che è la 293 del 2007 dove hanno chiarito questi aspetti E mi hanno fatto anche un puntuale riferimento a quelle che devono essere considerate Quali attività sono considerate prestazioni di servizi Quindi sostanzialmente per differenza trovate quelle che sono da considerare le altre attività Quindi la risoluzione ve l'ho detta Tornando al nostro articolo 66 Che è stato modificato appunto dal comma 17 dell'articolo 1 della legge 232 del 2016 Dicevamo prima appunto che l'articolo 66 adesso fa riferimento ai ricavi incassati Quindi sono quelli che rilevano i fini della determinazione del reddito E ai costi sostenuti C'è poi il discorso delle rimanenze Comma 18 Che cosa mi dice il comma 18? Il comma 18 mi dice sostanzialmente che le rimanenze negli esercizi successivi dal 2017 in avanti Non dovranno più rilevare Cioè rileveranno come componente del conto economico tutte nel 2017 E da lì in avanti non si faranno più quelle operazioni contabili che si fanno di solito per le rimanenze Cioè noi nel 2016 che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto l'inventario del nostro magazzino Al meglio l'ha fatto i nostri clienti E poi contabilmente abbiamo fatto la classica registrazione magazzino merci a rimanenze finali Dove quel magazzino merci, quella voce che sta nell'attivo circolante del bilancio E che ha la funzione sostanzialmente di sospendermi dei costi ai fini del 2016 Ripeto solamente un secondo la risoluzione perché vedo che mi è stata chiesta La risoluzione è la 293, credo sia dell'ottobre 2007 Ok? Allora dicevamo le rimanenze Noi facciamo la classica registrazione contabile magazzino a rimanenze Questa registrazione ha la funzione di sospendere dei costi Perché io non mi posso imputare a bilancio dei costi cui non si sono correlati dei ricavi In quanto io ho delle merci che ancora ho in magazzino e non ho venduto E quindi non mi posso sostanzialmente imputare quei costi Sospendo questi costi con quella registrazione che faccio al 31 dicembre Al primo gennaio di ogni anno Quelle che erano le rimanenze finali diventano rimanenze iniziali dell'esercizio dopo In questo caso dell'esercizio 17 Quindi mi diventano tutte costo Al 31 dicembre 2017 Non farò più la registrazione di magazzino a rimanenze Questo sostanzialmente mi dice il comma 18 dell'articolo 1 della legge 232 del 2016 E questo che cosa provoca? Questo forse è l'aspetto che il legislatore non ha preso in considerazione Potrebbe provocare Che l'esercizio 2017 alcuni contribuenti chiudano in perdita Per effetto di queste rimanenze iniziali E qual è il problema delle imprese minori? Che non si possono riportare le perdite agli esercizi successivi Vengono perse Quindi al massimo le perdite vengono ripartite fra i soci o all'imprenditore individuale Se le possono scomputare da redditi di altra natura Ma le eccedenze vengono perse E quindi c'è anche una sorta di discrepanza rispetto al trattamento delle perdite Che invece è stato previsto per altri soggetti che già lavorano col principio di cassa Ad esempio i contribuenti minimi Per i contribuenti minimi è stato previsto che il riporto delle perdite è consentito Per questi soggetti Articolo 66 non è stato fatto C'è una sorta di discrepanza E vediamo se questa cosa verrà chiarita Con una circolare La quale magari ci dirà di adottare lo stesso comportamento che c'è per i contribuenti minimi Ma attualmente non è così E il problema c'è Bene Quindi il nostro articolo 66 Torniamo sempre lì Ci dice sostanzialmente Una sorta di principio di cassa in senso stretto Ricavi incassati meno costi sostenuti Però ci sono ancora dei componenti contabili di reddito Che non rilevano per cassa Continueranno a rilevare Continueranno a rilevare come hanno sempre rilevato Quindi Plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienza, ammortamenti e accontenamenti Verranno rilevati, determinati, contabilizzati Come abbiamo fatto finora Per questo non cambia nulla Questo è per quanto riguarda le componenti contabili Ci sono anche delle componenti di reddito extra contabili Per le quali le cose non sono cambiate Non sono mutate Mi riferisco ad esempio Per Ai proventi immobiliari Quelli di cui è l'articolo 90 del TUIR Quindi il reddito degli immobili Che non costituiscono beni strumentali Nell'esercizio dell'impresa Anche per questi le cose non cambiano Quindi i calcoli che si facevano prima Si faranno anche dall'esercizio 2017 in avanti Restano poi ancora valide Le deduzioni Queste non sono state toccate dal legislatore Le deduzioni presenti nell'articolo 66 Ai commi 4 e 5 Il comma 4 Tratta delle deduzioni riservate agli agenti Che sono delle percentuali che si applicano ai ricavi Quindi si applicheranno sempre le stesse percentuali I ricavi effettivi Quindi quelli effettivamente incassati E gli agenti avranno le loro deduzioni forfettarie Come le avevano prima Stessa cosa agli autotrasportatori Quindi le deduzioni previste dall'articolo 66,5 Riservate agli autotrasportatori Non vengono modificate Queste restano Poi Altro aspetto da considerare Se voi avete Componenti di reddito Positivi e negativi Quindi costi edicali Che avete rilevato Per competenza nel 2016 Perché avete registrato La fattura attiva passiva nel 2016 E quella fattura Non viene pagata O incassata nel 2016 Ma viene pagata O incassata nel 2017 Quando siete in regime di cassa Semplificato Allora Ci rifacciamo Ci possiamo già rifare Già rifare Scusate A quanto previsto Nel comma 19 Della legge Della legge Della legge Di bilancio Che è quello Dei passaggi di regime Dicevamo prima I costi e ricavi Che hanno concorso Alla determinazione Del reddito imponibile In un esercizio Nel quale c'erano Determinate regole 2016 ho ancora la competenza Non avranno poi effetto Nella determinazione Del reddito imponibile Degli esercizi successivi Nel 2017 Passo la cassa Pago e incasso Quelle fatture Ma siccome queste Hanno già rilevato Nel 2016 Quando mi Era in vigore Il principio di competenza Non me le devo Ritrovare anche Nell'esercizio Di 2017 Della determinazione Del reddito imponibile Perché hanno già concorso Alla determinazione Del reddito imponibile Nell'esercizio prima E queste cose Si potrebbero Ripetere anche Da qui in avanti Perché anche da qui in avanti Io dal 2017 Comincio a lavorare Per cassa Poi supero i limiti Dal 2018 Sarò in ordinaria Quindi ciò Che mi ha rilevato Per cassa Nel 2017 No Funzionerà Con le regole Che Avevo nel 2017 In base al regime Adottato Che era quello Di cassa Poi Ci sono ancora Delle questioni Dicevamo prima A parte le rimanenze Ci sono anche altri Aspetti che ancora Non sono stati Presi in considerazione Mi riferisco Ai risconti Anche i risconti Sono sostanzialmente Dei costi sospesi Come le rimanenze Dicevamo prima La rimanenza Quella scrittura Che faccio a fine anno Hanno la funzione Di sospendermi dei costi I risconti Fanno uguale Hanno la funzione Di sospendermi dei costi Che io ho registrato Perché ho avuto Anche la manifestazione Finanziaria In quell'esercizio L'ho pagato L'ho registrato Quel costo Ma è di competenza Di più esercizi Facciamo l'esempio Con i risconti pluriannali Quindi io A fine 2016 Devo sospendere Quel costo Per poi Mandarlo All'esercizio 2017 Se ho un risconto Pluriannale Perché quel costo È riferito Agli esercizi 17 18 19 Nel 2017 Io ribaldo Tutto Quel costo Per intero Quindi A fine 2017 Non dovrò più Fare il risconto Però anche questo È un aspetto Che non hanno chiarito Io mi immagino Che sarà così Ma allora Mi pongo un altro problema I leasing Anche i leasing Io li risconto Come dovrò comportarmi Per i leasing Se è vero Quello che ho detto adesso Ciò significa Che io i leasing Non li risconto Quindi se ho pagato Il maxi canone Per un leasing Che è partito Nel 2017 Per 20.000 euro Cosa faccio? Me lo deduco tutto? Allo statuale Vi direi di sì Però Sono convinto Che qui interverranno Perché Come hanno previsto Le deroghe Al principio di cassa Per i professionisti Quando ci sono I mezzi leasing Immagino Altrimenti Sarebbe troppo bello Forse Forse Immagino faranno La stessa cosa Per le imprese minori Però è una cosa Che ancora Non hanno chiarito Altri aspetti Da chiarire Si potrebbero essere Ad esempio Per il discorso Relativo ai contributi Conti impianti Che anche questi Teoricamente Vanno riscontati Vedete che ci sono Di aspetti Che ancora Non hanno Non hanno preso In considerazione Possiamo passare Alla slide Dopo Che è questa qua Che è invece La modifica L'articolo 18 Quindi Coma 22 Dell'articolo 1 Della legge 232 Del 2016 Ha completamente Riscritto L'articolo 18 Introducendo Tre nuovi registri Che questi Contribuenti Minori Dovranno Tenere Sono Previsti Dal comma 245 Del nuovo Articolo 18 Comma 2 Annotazione cronologica In due separati Registri Dei ricavi Percipiti Delle spesso Sostenute Quindi È un registro Che già conosco Per i professionisti In ordinaria Quindi Il professionista In ordinaria Io tengo già Un registro Che è il cronologico Delle movimentazioni Finanziarie Che è il registro Degli incassi E pagamenti Sostanzialmente Ma lo faccio Per un professionista Che è in contabilità Ordinaria Andare a attivare Questo registro Per un soggetto Che io voglio Mantenere In contabilità Semplificata Vuol dire Farsi del male No? Mi sembra Abbastanza chiaro Questo aspetto Io credo Che nessuno Che abbia Un po' Di amore Proprio Possa Per i propri Clienti Attivare Questo registro Qui Anche perché Se io poi Ho a che fare Con un contribuente Che mi fa Gli scontrini Come faccio A rimediare Generalità Indirizzo Di chi Effetto Il pagamento Quindi Vedete Già Da soli Che Questo registro È stato Inserito Non so Per quale motivo Però L'hanno fatto Per cui Noi ci siamo Dovuti adeguare Però Io vi consiglio Vivamente Di non Attivare Questo registro Per i clienti Che Continueranno A lavorare In contabilità Semplificata Anche perché Abbiamo detto Prima È un registro Che conosciamo Per i professionisti Che però Gestiamo in ordinarie Il comma 4 Invece Anche questo È un registro Che già conosciamo Per i professionisti Però questa volta In contabilità Semplificata E funzionerà Uguale Quindi Io annoto Sui registri IVA Le mie Fatture Normali Ma vado a notare Anche A fine anno Quindi in calcio Il registro Delle vendite Vado a notare I riferimenti Vado a riportare I riferimenti Delle fatture Che non ho Ancora incassato Stessa cosa Nel registro Degli acquisti Vado a riportare I riferimenti Delle fatture Di acquisto Che a fine anno Non ho pagato È un registro Che conosciamo Già per i professionisti In semplificata E quindi Non c'è molto Altro Da dire In quali Casi Potrebbe Essere Utile Tenere Questo Registro È il Soggetto Che Magari Non ha Tantissimi Documenti So Che magari Perché comunque È un cliente Che tengo Già da qualche Anno Per cui So Anche se non L'ho mai visto Che lavora Con un estratto Conto bancario Che utilizza Solo per Per l'attività Quindi non Utilizza anche Per fini personali E magari Per un soggetto Di questo tipo Lo faccio Lavorare In maniera Per cassa Vediamo dopo Reale Come l'abbiamo Definita noi Cioè in tutto Per tutto Sarà in contabilità Per cassa Perché comunque Non ha molti documenti E una sorta Di ricostruzione Di quella Che è la sua Situazione finanziaria La riesco a fare L'ultimo registro È quello Che ci viene In aiuto Ed è quello Che verrà Adottato Dalla maggior parte Dei contribuenti Che è Nessun ulteriore registro Eh Quindi non c'è Un registro Specifico Rilevate Le operazioni Sui registri IVA Però Si presume Che quello Che registrate Sul Registro IVA E anche Quindi le fatture Emesse Che registrate Sul registro IVA È anche Incassata Nel momento In cui La registrate Se uno Esercita Quest'opzione Dà per scontato Che quella fattura È stata incassata Stesso discorso Per i documenti Passivi Anche se in realtà Così Non è avvenuto Quindi Questa slide Sostanzialmente Ribadisce Quanto vi ho Anche Detto poco fa Le due modalità Di tenuta Dei registri Prevesti Dai comi 2 e 4 Sono simili A quelli che abbiamo visto Per i professionisti Ok Per poter Stampare Necessario Contabilizzare Con precisione Gli incassi I pagamenti Oppure Potete adottare Il regime Opzionale Di cui Al comma 5 Si eserciterà Un'opzione È vincolante Per 3 anni Ok E E E È un'opzione Vincolante Per 3 anni Cos'altro dire Ah si La slide successiva Noi le abbiamo Definite In In questa maniera qui Regime di cassa Reale Virtuale Quindi Chi vuole Lavorare Con il regime Di cassa Reale Dovrà Scegliere Fari registri Di cui al comma 2 Ma quelli del comma 2 Vi dicevo prima Lasciatelo stare Quindi O mi lavorate Con il registro Previsto Dal comma 4 Altrimenti Si fa l'opzione Per quello Del comma 5 Ah ecco Che cosa non mi ricordavo Prima Che ancora Quest'opzione Non si sa Dove dovrà essere Esercitata Immagino Che se uno Vuole optare Per il regime Di cassa Virtuale Comincia a lavorare Col comportamento Concludente Nel senso che Registra Tutto quanto Su registri IV Anche quello Che non ha Incassato Poi immagino Che il prossimo anno Quando si farà La dichiarazione IVA Ci sarà un campettino Nel quadro Dove uno Mi va a esercitare L'opzione Ai sensi D'articolo 18,5 Del DPR 673 Immagino che sarà così Perché Se no Attualmente Non so dove Possa venire Esercitata Questa opzione E niente Tutto quello Che registrate Come vi dicevo Prima È un regime Di cassa Virtuale Perché appunto Quello che non è Il fatto di aver registrato Il documento Su registri IVA Acquisti Vendite Che sia Da per scontato Anche se ciò Non è avvenuto Che Quel documento Sia stato Incassato E che quindi Mi debba fare Reddito Nell'esercizio In cui viene Registrato Il documento È un regime